Ciao a tutti, vi è capitato mai di fare un movimento tutto sommato semplice come prendere un oggetto anche relativamente leggero? Di piegarvi a avere il classico colpo della strega? Beh, queste sono problematiche tipiche per i soggetti, diciamo così, di una certa età. Se volete qualche consiglio su come fare per evitare di incorrere in queste problematiche, venite da me. Vi darò qualche consiglio gratuito insieme a una lezione di prova completamente gratuita. Dove? Vi chiederete voi. Sono Antonio Parroni e questa appunto è Officina Fitness.